il 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 appunto faccio i delinquenti fermate a questi due fermate subito al fermi c'è diventa un po' di documenti dico's ah sì io adoro patenti e libretti guagliarù bisogna avere il pugno fermo oi ma ho avuto la cazzata e subito aiutare il tuo giardino se no prima ogni volta che riceva una cosa non lo faceva mai ma ho avuto la cazzata stare a quello giardino andiamo a vedere se l'ha fatto bene andiamo a vedere ecco bravo appuntato così mi piace che quando devo un ordine voi senza ragionare dovete fare quello che dico io avete annaffiato il giardino e l'avete annaffiato anche bene ma fatemi l'ultima cortesia andate a tagliare quei due alberi gli alberi? si ma di ciò la posso avere una motosic una motosic? chi lo sa cadere? va bene vai va bene vai